sabato 11 novembre puntuali come al solito anche oggi su uslo web radio per una nuova puntata di agenda avvocati buongiorno dunque ben ritrovati a tutti gli amici e colleghi in ascolto da Pino Gallo buongiorno a Ornella Sala che è con noi in regia come sempre per questo nuovo appuntamento con agenda avvocati andremo a dare quelle che sono le notizie di un certo dirievo che sono pervenute in settimana sicuramente la settimana è importante questa notizia la settimana si è aperta con la due giorni di un'associazione forense movimento forense che si è svolta a Milano stata registrata la presenza tra gli altri anche del presidente del cnf greco del sottosegretario alla giustizia sisto e la tutela dei diritti sfida il futuro è il tema scelto dall'associazione per questo congresso nazionale ha visto la presenza e la partecipazione di circa 200 delegati provenienti dalle sezioni territoriali e come dicevo anche i vertici delle rappresentanze forensi c'è stato anche l'intervento in questo senso del presidente cnf greco sinteticamente le sue parole guardiamo a come sarà la professione nei prossimi anni e a cosa si aspetta da noi la società sono state ci sono stati anche altri interventi ovviamente il presidente comunque del cnf si è soffermato tra le altre cose anche sulla sessione ulteriore del conclresso nazionale forense che si svolgerà come sapete 14 15 dicembre a roma non dovrebbe non deve trattarsi a detto di un evento divisivo ma nel luogo in cui si dovrà pensare molto seriamente a come sarà l'avvocato del 2030 è importante dice greco fare uno sforzo per capire come la società ci vede e ci vede e come noi avvocati abbiamo intenzione di rapportarci ad essa facendoci trovare pronti per le importanti sfide che ci attendono alla all'apertura della riunione intervenuto come dicevo anche il viceministro della giustizia francesco paolo sisto che si è soffermato sui primi riscontri offerti dalle riforme del processo civile e penale e anche sull'attuale condizione dell'avvocatura tenendo a richiamare prima di tutto l'importanza dell'eco compenso una rivincita dice sisto che ci siamo presi rispetto ad anni di patti leonini in cui professionisti erano obbligati a subire solo prestazioni senza una norma che tutelasse il loro giusto corrisponditivo ancora dice sisto dobbiamo tenerci stretta una conquista che stabilisce un equilibrio tra prestazione e compenso l'avvocatura è una componente decisiva per il funzionamento della giustizia di questo dobbiamo essere orgogliosi e consapevoli questa è la prima notizia della giornata uno stacco in regia torniamo subito con le altre notizie ecco la seconda notizia della giornata una notizia certamente importante che riguarda tutti i professionisti che sono soggetti al regime cosiddetto forfettario perché dal primo gennaio 2024 appunto tutti i forfettari e questo indipendentemente dai ricavi o dai compensi conseguiti nell'anno precedente saranno obbligati a emettere la fattura elettronica le regole fiscali sull'iva non cambiano i forfettari non addebiteranno l'iva in fattura ai clienti quindi non la detraggono sugli acquisti non liquidano l'imposta né la versano dovranno semplicemente dotarsi di un applicativo che permette di emettere, consegnare e conservare le fatture elettroniche il 13 aprile 2022 il Consiglio dei Ministri aveva approvato una misura che obbliga la fatturazione elettronica anche ai contribuenti forfettari che applicano la flat tax al 15% sui redditi fino a 65 mila euro questa misura rientra nel decreto legge finalizzato all'attuazione dei 45 obiettivi del PNRR con interventi mirati al contrasto dell'evasione fiscale oggi chi è in regime forfettario non è obbligato ad emettere e ricevere fatture elettroniche potendo rilasciarle in formato cartaceo o appunto nel formato digitale di pdf salvo per le fatture emesse alla pubblica amministrazione l'obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti forfettari dalle prime indiscrizioni non scatterà immediatamente dal primo luglio ma seguirà un periodo transitore di circa tre mesi dove sarà possibile effettuare l'emissione della fattura elettronica entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione senza l'applicazione di sanzioni inoltre in base a quanto emerso dalla bozza del decreto legge i professionisti in regime forfettario che non superano i 25 mega euro di compensi l'anno potranno fino al 2024 utilizzare la fattura tradizionale oltre ai singoli professionisti in regime forfettario saranno tenuti ad utilizzare la fattura elettronica anche soggetti che hanno adottato il regime di vantaggio le associazioni sportive e direttantistiche e gli enti del terzo settore per emettere come si emette la fattura elettronica per emettere una fattura elettronica il professionista dovrà dotarsi di un software che permetterà di creare, emettere e quindi scambiare la fattura in formato XML nel sistema di interscambio sarà possibile utilizzare l'apposita sezione fatture corrispettive del sito dell'agenzia delle entrate questo portale permette di usufruire in modo gratuito di una serie di servizi tra cui la generazione, la trasmissione, la conservazione delle fatture elettroniche la trasmissione dei dati delle fatture la memorizzazione delle trasmissioni e l'incensimento e l'attivazione dei dispositivi Cassa Forense ha stipulato per gli iscritti diverse convenzioni con software house e portali web per offrire il servizio di fattura elettronica a condizioni agevolate queste proposte sono elencate appunto sulla sezione convenzioni nella sezione attività professionale strumenti informatici e fatturazione elettronica di Cassa Forense è stato presentato proprio venerdì 10 novembre alla camera uno studio di Aiga uno studio che rappresenta i legali under 45 e c'è un allarme c'è un allarme per il calo dei redditi i giovani avvocati sono disillusi ecco il ritratto del rapporto Aiga colpiscono in particolare le ragioni che spingono la metà delle intervistate e circa il 37% dei colleghi maschi verso l'addio alla toga a cominciare dallo squilibrio tra impegno e guadagno lo studio è stato realizzato dal dipartimento pari opportunità dell'associazione italiana giovani avvocati si basa sulla raccolta online di dati e informazioni forniti da 600 professionisti sugli 8000 iscritti ad Aiga riguardanti aspettative, esigenze e problematiche una ricerca che restituisce un quadro ricco di ombre più che di luci sulla condizione professionale sperimentata da chi ha meno di 45 anni dopo l'apertura dei lavori da parte del vicepresidente di Aiga Carlo Foglieni è stato l'avvocato Giliberti a snocciolare i numeri più interessanti emersi dall'indagine tra questi vi è in primo luogo il livello reddituale insoddisfacente che spiega anche la disaffezione dei giovani nei confronti della professione legale tanto che oggi è ormai evidente una sorta di crisi del praticantato caratterizzata appunto dalla difficoltà nell'individuare le nuove leve dell'avvocatura in effetti tra le 364 avvocate che hanno risposto al questionario solo il 6,3% ha dichiarato di raggiungere un reddito superiore ai 50.000 euro lordi mentre tra i 251 colleghi che hanno partecipato quella percentuale si triplica raggiungendo il 18% si aggiunga poi che il 53% delle donne avvocate guadagnano meno di 15.000 euro che è una soglia di sotto alla quale si trova poi il 36% degli avvocati maschi ed allora è proprio chiaro il contorno della situazione crisica sulla professione soprattutto sul piano reddituale lo stato di disagio e di incertezza dei giovani avvocati è provato anche dalla percentuale di coloro che hanno risposto affermativamente alla domanda se si è mai pensato di lasciare la professione lo hanno fatto il 53% delle donne e il 40% circa degli uomini vanno ricordate poi anche le ragioni adotte per questo dubbio tra le quali si ritrovano lo squilibrio fra impegno e guadagno la aleatorietà dei risultati le difficoltà amministrativi e gli oneri troppo altri uniti allo stress per il conciliare lavoro e famiglia fra le poche luci emergenti del rapporto va citato l'84% degli intervistati che dichiarano di svolgere attività in uno studio in cui non vi è alcun familiare dimostrazione che si è superato il vecchio carattere ereditario della professione e proprio riallacciandoci alla notizia precedente sulla disaffezione sulle tante difficoltà che ormai contornano la professione una notizia particolare è quella che viene da uno dei tanti concorsi che in questi ultimi anni sono stati banditi in particolare il concorso per 150 posti da dirigenti all'entrata all'agenzia dell'entrata e superano lo scritto solo in 45 quindi è una strada stretta per il ricambio delle figure apicali dell'agenzia dell'entrata il concorso era stato bandito nel 2019 aveva visto concludersi il primo test della prova scritta iscritti 9000 presenti alla prova 1746 i candidati ammessi alla prova scritta sono stati un numero minore rispetto alle aspettative o alle esigenze di organico solo 45 hanno superato il primo step dunque lasciando scoperti ancora 105 posti destinati alla direzione di uffici proposti ad attività operative di gestione rispossione contenzioso dei tributi di competenza dell'agenzia dell'entrata ai candidati ammessi alla prova orale verrà inviata adesso una comunicazione relativa alla predetta prova come previsto dall'articolo 10 del bando del concorso e poi con un successivo avviso pubblicato sempre sul sito internet dell'agenzia saranno resi pubblici il calendario e il luogo di svolgimento della prova orale per visionare i propri elaborati e conoscere il punteggio conseguito gli interessati potranno accedere a decorre al 10 novembre 2023 con le proprie credenziali nell'area riservata della piattaforma concorsi smart del formex PA l'agenzia delle entrate dovrà procedere poi ancora ad una campagna di mega assunzione per rinforzare l'organico con oltre 11.000 nuove risorse a fine novembre è previsto infatti l'avvio delle selezioni di oltre 4.000 nuove leve la pianta organica dell'agenzia a luglio con le sue 44.000 risorse risulta sottodimensionata infatti di circa il 40% un argomento molto particolare assai dibattuto è quello relativo agli impiatti di videosorveglianza che stimolano l'attenzione del garante della privacy in particolare per quanto riguarda quelli di natura privata ebbene è intervenuto ancora il garante con un provvedimento sancendo che il privato non può riprendere aree pubbliche quindi sono fuori legge le telecamere come quelle installate in diversi immobili condominiali che riprendono aree pubbliche quindi sì alle telecamere private all'ingressi delle abitazioni ma senza ripresa di aree pubbliche senza la presa diretta audio se si filmano zone pubbliche se poi si captano le conversazioni dei passanti infatti si passa da un uso domestico ad una vera e propria videosorveglianza assocettata alle norme del gdpr questo è il principio applicato dal garante della protezione dei dati personali nel provvedimento numero 477 del 12 ottobre 2023 con il quale ha ammonito una signora rea di aver posizionato una telecamera idonea a riprendere un parco giochi e una piazza davanti alla propria abitazione per effetto del provvedimento quindi tutti i condomini dotati di telecamere devono dunque verificare che cosa è colto dall'apparecchio e adeguarsi alle prescrizioni del garante in realtà gran parte delle telecamere private rischiano oggi di essere fuori legge riferiva la signora oggetto di questo provvedimento di volersi difendere dalle generiche minacce ricevute ma non denunciate ma ciò non è bastato a ritenere legittimo il trattamento di quelle immagini nel provvedimento il garante al riguardo delle telecamere domestiche afferma che è possibile installare sistemi di ripresa video senza dover adempiere agli obblighi previsti dalle norme della privacy purché l'angolo di visuale delle telecamere sia limitato alle sole zone di propria pertinenza anche eventualmente attraverso l'attivazione di una funzione di oscuramento delle parti eccedenti e soprattutto senza captare le conversazioni il garante aggiunge che soltanto in presenza di situazioni di rischio effettivo anche il privato può sulla base di un legittimo interesse stendere la ripresa delle videocamere anche a dare che esulano dalla esclusiva pertinenza purché ciò sia adeguatamente motivato e suffragato da una idonea documentazione tipo denunce minacce e furti questi presupposti nel caso esaminato mancavano del tutto e il garante ha accertato la violazione anche se ha ritenuto un illecito minore senza irrogazione di alcuna sanzione pecuniaria quando invece ci sono i presupposti per allargare le riprese il privato diventerà titolare del trattamento ed è tenuto a rispetto del GDPR sul punto andrebbe chiarito se si è tenuti come parrebbe a posizionare i cartelli delle informative privacy a redigere il documento di bilanciamento degli interessi a scrivere l'analisi dei rischi e così via in ogni caso per evitare possibili sanzioni è bene che i privati condomini verifichino l'angolo delle riprese facendo attenzione a rimanere nei limiti dell'uso per gli scopi esclusivamente personali scarica la nostra app use low web radio per apple e android ecco un'altra notizia particolare che viene fuori dalla da una nota diffusa dal consiglio nazionale degli ingegneri con il proprio presidente della categoria angelo domenico perlini si parla di banca dati degli indirizzi digitali inad fatta quasi solo da professionisti su 2 milioni e mezzo infatti di indirizzi PEC registrati 2 milioni e 3 appartengono al mondo ordinistico un tasso di copertura di ordine collegi del 95% con oltre 1760 enti numeri che secondo il consiglio nazionale degli ingegneri rendono ormai necessaria l'obbligatorietà di iscrizione all'albo a chiunque eserciti della professione di ingegnere i dati in sostanza dicono che l'obbligo di riportare la PEC negli elenchi pubblici è di fatto assolto quasi esclusivamente dagli iscritti ordinistici ad un albo e quindi ad un ordine questo perché esiste un obbligo di legge ovviamente e anche perché facendo fede ai propri compiti istituzionali gli ordini esercitano un controllo di tipo deontologico su tutti i propri iscritti mentre secondo il presidente degli ingegneri non si può dire la stessa cosa per tutte quelle professioni che non sono soggette ad un controllo tipico di quello ordinistico con ciò riferendosi ai professionisti appunto non iscritti in alcun albo o ordine ma soprattutto a coloro che poi svolgono attività nel privato o nella pubblica amministrazione senza essere obbligati ad iscriversi in un albo il presidente dell'ingegneri torna su uno dei punti cardini della propria agenda ovvero l'automatismo tra laurea di ingegneria e di iscrizione all'ordine e quindi questo è un dato particolarmente interessante che è uscito fuori da questo comunicato del presidente dell'ordine nazionale dell'ordine degli ingegneri è sempre in tema di come dire di registri e c'è un'altra notizia riguarda i testamenti olografi è stato attivato infatti dal consiglio nazionale del notariato un registro dei testamenti olografi la gestione di questi testamenti si semplifica grazie a un sistema infatti che raccoglierà i dati aiutando così la ricerca dei testamenti olografi depositati fiduciariamente presso i notari di tutta Italia che aderiscono al servizio e del 6 novembre il registro stato attivato appunto il 6 novembre il registro volontario dei testamenti olografi realizzati dal consiglio nazionale del notariato tramite una società informatica Notartel nella nota diffusa dal consiglio nazionale si legge che lo strumento tecnologico messo a punto permette di digitalizzare le procedure di deposito e conservazione dei testamenti olografi e di semplificare la vita dei cittadini nella loro ricerca migliorando così l'iter di conoscibilità di questi documenti oggi difficilmente reperibili questo grazie all'utilizzo di un registro nel quale i cittadini potranno depositare fiduciariamente il testamento olografo attraverso un notaio e richiede appunto di procedere alla trascrizione di questi dati in questo registro il notariato spiega che il testamento olografo depositato è scritto per intero datato e sottoscritto per mano del testatore quindi dopo la consegna il notario annota sul registro le sole informazioni relative al testamento ricevute tra queste i dati anagrafici del testatore la data di redazione del testamento olografo la data del deposito fiduciario rilasciando poi al testatore la relativa ricevuta di deposito ancora la nota ricorda che il testamento così depositato può essere modificato in ogni momento previo consenso del testatore dal notaio depositario e infine la grande comodità per i cittadini in possesso di un certificato di morte sarà richiedere a qualsiasi notaio in Italia di effettuare la ricerca del testamento cui sono interessati nel caso di reperimento di un testamento spesso presso un determinato notaio a questi arriverà in automatico la comunicazione relativa alla ricerca effettuata che lo informerà sul fatto che il testatore è deceduto e che qualcuno interessato alla pubblicazione del testamento ha effettuato la ricerca e in conclusione della puntata odierna torniamo con più precisione su una notizia che avevamo già fornito la scorsa puntata lo abbiamo detto per gli avvocati cresce la quota di iscrizione all'ordine perché il Consiglio Nazionale di Forense per il 2024 ha deliberato l'incremento del contributo annuale dovuto per il proprio funzionamento e quindi l'importo da pagare spassa da 25 e 82 euro a 32 euro per gli iscritti ordinari quindi meno di 8 euro di aumento e da 51 a 65 per i cassazionisti stiamo parlando di circa 13 euro di aumento per i cassazionisti l'obiettivo è coprire le spese di gestione e garantire quantomeno il pareggio di bilancio previsto dalla legge professionale lo ha riferito il CNF che sottolineava come il contributo sia rimasto invariato dal 1998 nel frattempo la variazione dei prezzi al consumo ha comportato un aumento dei costi pari al 62% e l'articolo 35 della legge forense che autorizza il CNF a indicare la misura dell'importo dovuto per l'anno successivo determinato in base al bilancio preventivo entro il 30 ottobre e così secondo il regolamento numero 3 del 2013 entro il 31 marzo di ogni anno ogni consiglio circondariale invia al CNF il numero degli iscritti negli albi e nei nenchi riferito al 31 dicembre precedente segnalando i casi di nuove iscrizioni cancellazioni sospensioni e radiazioni disposte nel corso dell'anno e tutti gli ordini mandano poi al CNF i contributi riscossi per conto appunto del CNF entro il 31 e entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza insomma per i consigli territoriali tenuti soltanto dalla riscossione l'importo costituisce una semplice partita di giro non mancano i malumori intorno a questa notizia ad esempio il consiglio dell'ordine di avvocati di Bergamo ha osservato sul proprio sito che il numero di avvocati nel 2023 non è quello del 1998 mentre il CNF dichiarà a bilancio avanzi di gestione importanti e per effetto della modifica incasserà a bilancio un aumento di oltre 2 milioni di euro il CNF d'accanto suo evidenza che in 25 anni il suo ruolo è cresciuto ora si occupa anche di antiriciclaggio trasparenza privacy ADR scuole forenzi specializzazioni revisione biennale dei parametri per ricompense innovazione tecnologica senza dimenticare la vigilanza su ordini e consigli di scivina sono tutte attività che comportano maggiori spese e quindi questa era l'ultima notizia della giornata e però fatemi parlare di una grande novità che interesserà il nostro il nostro palinzesto perché dalla prossima settimana parte il nuovo appuntamento fisso settimanale ogni giovedì con focus lavoro il nuovo programma di approfondimento di USLO web radio è dedicato al diritto e alla giurisprudenza del lavoro a cura e quindi interamente condotto e diretto da Italo Meoli che già fornisce una grande mano alla realizzazione di agenda votati in ogni puntata verranno analizzate le novità normative le sentenze più importanti i casi pratici più rilevanti con l'obiettivo di fornire informazioni aggiornate utili per comprendere le novità appunto legislative le prassi applicative le tendenze giurisprudenziali in materia lavoristica è un programma che si propone di fornire un approfondimento settimanale su temi di attualità e interesse per tutti gli operatori del settore quindi non solo professionisti ma anche imprese lavoratori sindacati ed enti pubblici appuntamento quindi con Italo Meoli e il suo focus lavoro ogni giovedì sulla radio dell'avvocatura Uslo Web Radio è arrivato il momento allora di salutarci davvero buon weekend a tutti voi da parte mia Pino Gallo un caro saluto anche alla nostra Ornella Sala ci rivediamo anzi ci risentiamo sabato prossimo libertà e diritto per diffondere giustizia è con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslo Web Radio pulsano di amore per la nostra professione questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati in onda ogni giorno tutte le novità normative gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui Uslo Web Radio il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia